Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo. Soy una persona che me gusta sognar però al mismo tiempo me gusta mantener eso los pies encima de la tierra y darme cuenta de que una cosa es la realidad y otra cosa es el sueño. La realidad y el sueño como decía el poeta. Es muy difícil de aunar porque no se sabe nunca cuando se está en el sueño y cuando se está en la realidad. Almanacco di bellezza 18 settembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi e oggi l'almanacco di bellezza international esce dall'Italia cosa che peraltro facciamo praticamente un giorno sì un giorno no. Si c'è molto esotismo. C'è molto esotismo. Esotismo con l'S. Anche un po' di erotismo per parlarvi di una cantante andalusa. 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 Un artista che in Spagna chiamano la mas grande la più grande e che a cercare un paragone autoctono ci fa venire in mente la meravigliosa mina. Il 18 settembre del 1943 a Cadice, Cadiz, nasce Rossio Urado la diva spagnola per antonomasia. Grande voce, bellissima donna, temperamento, teatralità, colori. Beltade statuaria. Devo dire anche sgargiante e c'è un repertorio molto al mondo. Lo sento mi amor. Ma fondato su generi e sottogeneri della musica popolare iberica. Ci sono gli amori tormentati che non guastano mai. Molto spagnoli. Due mariti, un pugile e un torero. C'è sempre il torero. Il torero non poteva mancare. A meno di non essere agricoltori del mondo pop e di quell'invidiabile paese che è la Spagna. Bisogna riconoscerlo. In Italia la conosciamo poco. Anche perché c'era una certa concorrente. C'era lo zoo da noi. Cioè noi avevamo lo zoo nel senso che c'era la tigre di Cremona, la pantera di Goro, che sarebbe Milva, la tigre di Cremona e naturalmente la nostra mina. L'aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi, l'usignolo di Cavriago. Orietta Berti. E la civetta di Venezia. Patti provo. Inoltre Rossio Furado si afferma in patria negli anni 60, 70. Quando la Spagna era ancora chiusa al mondo. Non c'era ancora la Movida. No, c'era la dittatura di Franco. E quindi era un paese chiuso. Chiuso soprattutto all'Europa. Andava Sergio Leone. E Mario Brega. Ad Almeria per girare gli spaghetti western. Ma non ascoltavamo la radio spagnola e non guardavamo la loro tv. Abbiamo nominato Francisco Franco, Leonardo. Quando lei morì nel 2006, era molto giovane. Poi sai che se tu vai a cercare su internet, ti vengono fuori, qualcuno dice che è nata nel 44, qualcuno nel 46. Noi abbiamo scelto il 43. Poco importa, poco importa. Comunque era certamente ancora giovane. Anni 40. E il mondo cosa scrisse, Leonardo? Era una cantante folkloristica in una Spagna franchista che esportava nel mondo l'immagine dell'artista tradizionale. Come una pubblicità di se stessa. Il suo merito, tuttavia, è stato quello di aver attrasceso questo cliché che pure interpretava così bene. Allora, abbiamo detto Cadice, 1943, scegliamo noi. Il babbo era calzolaio, ma era anche un cantante dilettante del flamenco come la madre. E lei debutta da adolescente, vince tutti i concorsi canori a cui partecipa e a 17 anni, mentendo sull'età, per questo secondo me c'è tutto questo tema dell'anno di nascita, incomincia a cantare nei tablao. Cosa sono i tablao? Sono i piccoli locali in cui si esibivano gli artisti del flamenco. Tu col flamenco come te la cavi? Guarda, ho rotto dei pavimenti. Ecco, dai concorsi canori si passa a quelli di bellezza. 1967 arriva seconda al concorso Lady Europa davanti a Dvig Fennec. Dai tablao si passa ai teatri nel 67, al teatro della Zarzuela a Madrid, poi agli studi di registrazione e poi al cinema. Il primo film è del 1963, il titolo è Los Guerrieros di Pedro Luis Ramirez e tre anni dopo arriva il primo album, 1966, ed è una raccolta delle canzoni che lei canta nel film Processo a una estrella di Raffael Salvia Processo a una stella. Un drammone in cui la nostra Rossio interpreta una cantante ballerina di flamenco che viene accusata di aver ucciso il suo partner di scena. È un film che fa piangere. Piero ha sempre delle difficoltà a guardarlo. Invece lui lo guarda perché gode di tutte le tragedie, le sofferenze altrui. Sì, sì. Vero Leonardo? Com'è contento. La fama mondiale o perlomeno la fama assoluta nel mondo di lingua spagnola, che non è piccolo, che è enorme, arriva quando, pur non rinnegando il flamenco, passa ad altri generi. La ballata romantica. Mi viene in mente Paolo Conte quando canta, giuga che mai tu passerai ad altre danze come si passa in altre stanze. Bello, bravo. La schiava del Politeama. Paolo Conte genio assoluto. E quali sono gli altri generi della nostra Rossio? Beh, la ballata romantica, la coplandura, Andalusa, che è qualcosa di simile alla nostra musica leggera degli anni 50, con una salsa evidentemente più drammatica, più tragica. Tra gli anni 70 e 80 incide i suoi successi maggiori l'album De A Hora En Adelante, 1978, che contiene il classico Lo Siento Mi Amor. E poi il capolavoro Signora, 1979, dove c'è Signora e Como Io Te Amo. Bello. Che è una canzone che io ho dedicato più volte a Leonardo. Nel 1982 registra con due colleghi, Ven, i segue me. Perché? Perché lei vuole in questo doppio album omaggiare le radici nel flamenco e c'è da dire che questo omaggio è un elemento ricorrente nella carriera di quest'artista. Pensiamo ai film con Carlos Saura, L'Amore Stregon, L'Amore Brujo e Sevillanas. Altro inno imprescindibile è Punto de Partida. 1989, lei aggiorna l'immagine e il repertorio della cantante di flamenco. Sembra che sia stata lei la prima nel genere a sostituire i tipici volants et pois della tradizione con eleganti e anche audaci abiti da sera, secondo un'immagine più in linea con il gusto internazionale. Era bella, aveva una personalità fortissima, una voce prodigiosa e arrangiamenti e produzioni che erano in linea con il gusto internazionale e quindi ha rivoluzionato un genere. Passione. Lei cantava di amori molto, molto passionali. Lo faceva in un modo grandioso, lo faceva in modo molto teatrale e naturalmente negli anni incominciarono anche in Spagna, intendiamo, le parodie che lei però, devo dire, aveva la capacità di accettare con molta serenità. Era una donna spiritosa, era amata e rispettata anche da chi la prendeva in giro. C'è un legame con l'Italia, 6 settembre 1991, Rossio inaugura con un concerto l'Auditorium all'Aperto di Siviglia, realizzato per l'Expo del 92 e quella sera omaggia Mina con una versione in italiano un po' urlata di non credere. E poi c'è no, insomma, tante glorie, tanta celebrità, tanti premi, tanti onori e tante tournée anche in America. Parliamo di una cantante, signori, che ha venduto 30, 30 milioni di dischi, ha vinto 150 dischi d'oro, 63 di platino, ahimè, giovanissima, e anche qui c'è sempre il tema della data di nascita, non sappiamo se a 61, a 63... Intorno ai 60. Passati i 60 si è spenta per un tumore al pancreas l'1 giugno del 2006 nella sua casa vicino alla capitale, vicino a Madrid, l'Auditorium di Siviglia le è stato dedicato e a Scipiona, siamo vicino a Cadice, c'è il museo dedicato alla nostra... Rossio Curado. Fantastica. Io sono una moglie che voglio molto a la gente, di vero, tutta la mia vita. Respeto molto a la gente, a tutti i nostri, lo conosco o no. Quindi, io ho una maniera di essere, che quando doi il mio coraggio, lo doi con tutti i pronunciamenti. Io penso che una persona che mi conosce, non può farmi daño. Lens si siede e dà un annuncio drammatico. Mi hanno operato per un cancro al testicolo, che si è diffuso all'addome e ai polmoni. I medici mi danno tra il 60 e il 70% di possibilità di sopravvivere. Combatterò la malattia con tutte le mie forze. Tornerò a correre. Un passaggio dalla conferenza stampa, in cui Lance Armstrong annunciava al mondo di essere affetto da una malattia gravissima, un tumore in fase avanzata, e di voler combattere per tornare a gareggiare. I pronostici e i medici erano totalmente negativi. Ma la ferma volontà di Armstrong era più forte della medicina. Era talmente forte e inarrestabile, che pochi mesi dopo la guarigione, la fame agonistica lo riportò in bicicletta e lo riportò a vincere più di prima e quanto nessuno aveva fatto prima di lui. Raggiunge una fama planetaria, tant'è che diventa il volto dell'America nel mondo a fianco del presidente Bush. La Nike ne fa il suo simbolo commerciale e quindi diventa il simbolo di questo marchio nel mondo. Noi oggi parliamo di Lance Armstrong, perché lui nasce il 18 settembre del 1971, oggi ha 53 anni. E questa è la conferenza del 1996. Guarda l'almanacco, lo divora. Piero gli ha chiesto se gli regala una bicicletta. E lui ha risposto di no. No. Allora, una macchina di finanziamenti dopo questo episodio da cui siamo partiti si riversa sul simbolo del supereroe e sul suo braccialetto arancione, Livestrong. Cifre che non si erano mai viste nel panorama del ciclismo. Era nato in Texas, appunto nel 1971, il 18 settembre, il texano dagli occhi di ghiaccio e aveva cominciato fin da piccolo, come si usa in questi casi, a coltivare la passione sportiva molto spinto dalla madre Linda. Il padre era andato via di casa quando Lance aveva appena due anni. Il cognome Armstrong è quindi quello del secondo marito. Comincia con il nuoto, poi a 13 anni si dedica a una roba che è faticosissima. Io ho provato a lungo, ma non lo consiglio. Il triathlon. Dovete essere veramente bravi. Il triathlon, quello di Armstrong è quello atletico. Quello di Leonardo era quello delle tre C. Cannonau, Cassola, Campari. E far le scale. È un'altra storia. Allora, lui consegue il diploma ed entra nella selezione nazionale per le Olimpiadi. Un anno dopo è professionista, qua siamo nel mondo del ciclismo, è professionista e nei giochi di Barcellona 1992 chiude quattordicesimo. Però incomincia a farsi notare perché alla Vuelta de Spagna vince una tappa. È un corridore che si adatta molto bene alle corse di un giorno. Alla Paris-Giroubaix. Paris-Giroubaix, alla Milano-Sanremo. Ecco sì. O alle corse brevi a tappe. Non passa troppo tempo e riesce a conquistare anche delle tappe del più prestigioso Tour de France. Vince il campionato mondiale del 1993 a Oslo e sale le graduatorie mondiali. Nel 1996 guida la squadra olimpica Atlanta, ma già in queste prime vittorie, dichiarerà poi, le sostanze dopanti erano entrate nella sua corsa. Il cancro sembra fermare tutto, ma dopo appena due anni da quella conferenza e in soli 6-7 mesi dalla fine della chemioterapia, lui, come se nulla fosse, è di nuovo in sella. L'ambito Tour è però di più delle altre corse, lo sappiamo, soprattutto per quelle tappe terribili della montagna. E ricordiamolo che fino agli anni 80 triunfavano nelle tappe di montagna quelli piccoli e leggeri colombiani, per esempio, Herrera, Parra, che erano più adatti alle grandi scalate. Cosa succede? È un problema proprio della fisica. Certo, però dall'84 al 94 cambia tutto e improvvisamente... I colombiani tornano a casa. No, i colombiani non vincono più in montagna, perché quel vantaggio naturale è come svanito, è iniziata all'era dell'epo. Armstrong, l'eroe del cancro, è pronto a tutto per vincere e di fatto vuol far parte di questo programma che porta a una vittoria, una vittoria ad ogni costo. Quando il doping sanguigno è arrivato in gruppo, un corridore che fisiologicamente prima non avrebbe mai potuto vincere il tour, adesso aveva i mezzi per farlo. L'impatto è stato enorme e molto più devastante rispetto ai farmaci del passato. Lo scandalo festina. Willy Woot, il massaggiatore della squadra francese, viene arrestato. La sua macchina è stracarica di EPO, EPO acquistata in Svizzera. Per la prima volta l'opinione pubblica sente parlare di questo misterioso farmaco usato in medicina per curare le malattie renali. Ma che cos'è l'epo? È un farmaco usato per curare le malattie renali, è facilmente reperibile nelle farmacie svizzere e all'epoca nei test del sangue non era rintracciabile. L'epo stimola il midollo spinale a produrre più globuli rossi, aumentando con l'ossigenazione dei muscoli la forza e la resistenza. È come se una macchina che cambia cilindrata, in questo caso cambia proprio la cilindrata fisica dell'atleta. Sono le squadre e i direttori sportivi che si procurano l'epo, testosterone, cortisone, altre sostanze dopanti, e obbligano gli atleti a sottoporvisi. Ricordiamolo. Sono come i derivati delle banche. Bravo. Prenda i derivati. E sono gli stessi anni in cui tutto questo avviene anche in altri sport, non dimentichiamolo. Armstrong torna dal cancro e dal 99 incomincia a vincere tutto. Sembra volare mentre gli altri pedalano. C'era il trucco. Gli viene costruita intorno una squadra che ha un solo obiettivo, cioè far vincere a Lens la gara delle gare, il Tour de France. Mai un raffreddore, mai un'incertezza, mai un affanno. Era una macchina praticamente. E in sette lunghi anni vince per sette volte consecutive il Tour de France. È veramente qualcosa di incredibile che rimane nella storia. Di stacchi abissali per avversari che prima del 96 lui faceva fatica ad attaccare, montagne scalate con una frequenza di pedalata incessante. Come avesse la bici elettrica. Sì, gare che lui dominava fin dal primo minuto. Signori, Armstrong era dopato, credo come nessun atleta al mondo. E la sua favola di redenzione... C'era questo di problema, che lui sostanzialmente si era approfittato dell'aura positiva del sostegno che gli veniva dato per questo riscatto dalla malattia. È il momento in cui gli scandali del ciclismo incominciano a minarne la credibilità. Allora, la squadra americana US Postal è all'avanguardia nel campo del doping, perché sono stati capaci di trovare un perfetto equilibrio di epo, di steroidi, di anabolizzanti, di trasfusioni e con la complicità di documenti, analisi, contraffatte, non vengono sanzionati. La minaccia, le minacce di Armstrong a chi parla, e la più plateale di queste fu quella ripresa dalle telecamere, quella al ciclista italiano Simeoni, le sue continue false testimonianze creano questa, diciamo, tempesta perfetta. E a un certo punto si incomincia a delirare. Sono l'unico corridore mai trovato positivo a un test. La Nike addirittura lo usa, lo usa come spot antidoping. Armstrong è potentissimo e il vertice di un sistema sportivo, industriale, che grazie a lui aumenta la fama e i guadagni, lo copre. E ci sono anche dei casi che, diciamo, non vengono coperti e altri che vengono coperti. A me viene in mente subito Pantani. Pantani fu sacrificato e quindi la federazione in qualche modo finse di ripulirsi per poi invece coprire Armstrong. Ricordiamolo che la US Postal, la squadra di Armstrong, è stata in seguito definita il più sofisticato programma di doping di squadra mai realizzato nella storia dello sport. Simeoni ritorna sui sei fuggitivi davanti, ma con lui c'è anche la maglia gialla e dunque la fuga non può prendere spazio. Armstrong sfotte Simeoni, gli dice bravo, bel numero, e poi va a parlottare con gli altri fuggitivi. Simeoni racconterà poi che uno dei fuggitivi, lo spagnolo García Acosta, in quei momenti gli disse Se Armstrong resta qui, la nostra fuga è condannata. Lui dice che se ti stacchi e torni in gruppo, si stacca anche lui e ci lascia andare. Simeoni, per non danneggiare i colleghi, decide di mollare la fuga. Quella fuga arriverà al traguardo con 11 minuti di vantaggio. Il corridore italiano, a causa della condotta da bullo di Lance Armstrong, ha perso la possibilità di giocarsi una tappa al Tour de France. La maglia gialla, dopo aver costretto Simeoni a rientrare in gruppo, fa un gesto a favore di telecamera. Il gesto della bocca cucita, della bocca chiusa. Un chiaro riferimento nei confronti di Simeoni, che aveva denunciato il dottor Ferrari. Un avvertimento, un monito per chiunque osasse sfidare la tirannia del Texano. Quando è che viene fuori questo bubone? 2012. 2012 il castello di Carte comincia a crollare ed è soprattutto per le testimonianze volontarie dei compagni di squadra. Avendo posto Lance su un piedistallo, il pubblico è stato riluttante a tirarlo giù, fino a quando ovviamente ci è stato costretto. A quel punto, come sempre avviene, la rivolta è furia, è furia cieca. Dal servo encomio al codardo oltraggio, no? Manzoni-Docet. Certo. E i due dottori della squadra vengono squalificati a vita dal ciclismo. Lance viene squalificato. Gli vengono cancellati tutti i risultati sportivi dal 98, compresi i sette impossibili tour di seguito in maglia gialla. Lance ovviamente ha ammesso pubblicamente in televisione di essersi dopato, ma negli anni successivi, soprattutto di nuovo in tempi recenti, non si è dimostrato del tutto pentito. E la sua storia di doping è forse la più grande bugia nella storia dello sport. E c'è un dato però che rimane. Sì, una sola cosa che è stata reale e drammatica, quel cancro terribile al terzo stadio, una vera e propria condanna a morte, è stato effettivamente scongiurato da questa incredibile forza di volontà, da questo desiderio di tornare a vincere, da questa voglia di vivere. Gli facciamo gli auguri di buon compleanno e gli facciamo i complimenti per la battaglia contro la malattia, non per il resto. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no, in all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row. Not in my opinion. Oggi è mercur de, mercur de, mercur de, timbota, cusale, ster coi fre a zapper l'ort. Che vuol dire? Stare con i frati a zappare l'orto, cioè eseguire gli ordini altrui senza discutere. Come facevano quelli che in passato andavano in convento per sparire e però facevano tutto quello che gli dicevano. Ah per forza. Tu sei mai stato in convento? In convento ancora no, però sai la vita è lunga e c'è ancora tempo. Ti vedrei bene come suora di clausura. Suora di Leonardo, non è male. Leonardo era la mitica. A me rimette la saponificatrice. C'era la mitica della buca di Zibello. Che meraviglia. Vabbè. Vabbè, quindi. Non facciamogli perdere tempo. Già deve andare. C'è fretta. Cioè è già scocciato lui. È già scocciato. Poi lui può fare le battute, telefonate a Piero, ma se le facciamo noi non va bene. Eh no, se no è tutto uguale. Eh certo. Dunque dobbiamo ricordare, anche se all'almanacone abbiamo tanto parlato, che oggi è un mese dalla morte di Alain Delon. Cosa possiamo consigliare ai nostri telespettatori? Un film di cui si parla troppo poco perché poi è arrivato un altro film sullo stesso soggetto, dallo stesso soggetto, cioè Delitto in pieno sole. Dove lui è veramente… Ci sono arrivati dieci. Sì. Da Patricia Isemit. Esatto. Mr. Ripley. Sì. Ma questo è più bello. Io penso Matt Damon, no? Sì, ma in mezzo c'è anche Vin Vendor. Ma questo è il più bello. Questo è il più bello di tutti. Dal talento di Mr. Ripley, di Patricia Isemit, lui è Tom Ripley, appunto. C'è Maurice Ronay, c'è Romy Schneider. Romy Schneider è una particina alla fine. A Veninchi. A Veninchi. E anche A Veninchi che fa la custode del Palazzo Romano. Esatto. È un film perfetto. È perfetto per ricordare questo gigante del nostro cinema. Lui è di una bellezza. Lui è bellissimo. Eh? Eh. Guardatelo. Che invidia. Ci sono anche degli errori voluti. Poi il finale. Sì. Il finale è pazzesco. Va bene. Va bene. Ci vediamo domani. Almanacco di bellezza. A cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simeoni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Stefania Margheritti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.